Buongiorno, volevo darvi alcune informazioni in più riguardo il mio ruolo come responsabile del Polo Horeca qui in Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria. Appunto volevo spiegarvi un po' in maniera un po' più dettagliata per chi non sapesse che cos'è il Polo Horeca, la parola stessa lo dice Horeca Hotels, Ristoranti e Catering. Quindi seguirò questa parte del settore turistico qui a Budapest e in Ungheria cercando di migliorarlo, di implementarlo e di portare la mia esperienza come ex manager di grandi alberghi e consulenti del settore. Gli avvenimenti che seguiranno sono molto importanti, ce n'è uno importantissimo nel mese di novembre che è la settimana della cucina internazionale italiana e quindi come Camera di Commercio e come Polo sicuramente porteremo la nostra esperienza cercando di fare una gran bella figura. Antecedente alla settimana della cucina organizzeremo circa 10-15 giorni prima un workshop tra le autorità italiane e ungheresi del settore appunto di prevenzione verrà il dottor Urbano che è direttore per l'ASL di Foggia per la prevenzione con i lebi ungherese per scambiarci informazioni appunto per evitare eventi spiacevoli come sono successi nel precedente passato. Una cosa importante che faremo a partire dalla metà di ottobre assieme a Domenico Cilenti che è un famoso chef italiano conosciuto anche qui in Ungheria organizzeremo dei corsi di cucina con cadenza mensile che sicuramente porteranno una bella novità per quanto riguarda la cucina italiana presumibilmente li organizzeremo presso l'Istituto Italiano di Cultura quindi poi vi daremo i dettagli credo che per gli altri eventi che ci saranno ci potrete seguire sul sito man mano che li organizzeremo spero che vorrete interpellarci approfittando dell'esperienza mia dell'equipe del settore come io approfitterò della vostra vi mando un caro saluto, ringrazio tutti e a presto arrivederci e risentirci